Allora, anche quest'anno siamo qui a Potenza a dimostrare il nostro impegno come amministratori di questa diciannovesima giornata, una giornata che ci vede impegnati nella lotta contro questa piaga ormai nazionale, ormai dove non si parla, non si spara, lì esiste la mafia, non è vero che la mafia esiste, dove si uccide, dove si spara, e quindi noi abbiamo scelto di essere qui a Potenza, una regione dove non si parla molto di mafia, ma io credo che ormai l'infiltrazione raggiunge tutti i livelli, quelli economici, quindi noi come amministratori quest'anno siamo ancora più forti, siamo 180 soci tra comuni, regioni e province d'Italia per dimostrare il nostro impegno e di essere a fianco, vicino a questa regione che anche se non si parla però sinceramente è devastata anche in questa regione della mafia.